Buona giornata a tutti e rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che riprende come ogni giovedì alle ore 19. Nella trasmissione di oggi, la seconda parte della trasmissione di Magia, Stragonaria e Paganesimo leggeremo il Sentiero d'Oro che è un'analisi della religione e della religiosità romana, del paganesimo romano come io l'ho visto e come io ve lo sto trasmettendo, naturalmente basarsi sul paganesimo romano significa leggere tutti i paganesimi all'infinito, cioè il metodo che si usa per leggere il paganesimo romano che io uso per leggere il paganesimo romano è un metodo che si può utilizzare per tutti gli altri paganesimi e per tutti gli altri sentire. Prima di passare, dopo, verso le 8, 10 minuti prima delle 8 aprirò le telefonate, tengo un quarto d'ora prima delle 8, niente, devo dire una cosa sia a Marco e l'altro signor che hanno telefonato a proposito della formazione del giudizio del dopo morte. Ricordiamo sempre questo, gli uomini sono uguali nei doveri e nei diritti civili, cioè sono uguali come relazione all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Però gli esseri umani non sono uguali in se stessi, cioè è il cristianesimo che deve appiattire l'essere umano rendendo l'essere umano uguale, ogni essere umano uguale. In realtà gli esseri umani non solo hanno un potenziale diverso alla nascita uno dall'altro, ma attraverso le loro scelte che fanno nel corso della loro vita costruiscono una percezione diversa del mondo l'uno dall'altro. Per cui se è vero che siamo e dobbiamo essere uguali nei diritti e nei doveri all'interno del sistema sociale, quello che non siamo uguali è come noi costruiamo noi stessi, sia per le diverse contraddizioni che affrontiamo nella vita, sia per le diverse condizioni, sia per in fondo anche il nostro potenziale soggettivo che abbiamo, anche il quaziente energetico, che abbiamo per affrontare le contraddizioni della vita. Ogni scelta che noi facciamo in realtà ci trasforma, cioè noi scegliamo una cosa anziché o l'altra in quanto ci facciamo dei, però ci trasformiamo. E detto questo, questo cosa significa dopo riprodotto al vedere il dopo la morte, cioè alla concezione della dopo la morte? L'idea non è un'astrazione che nasce in noi, cioè non c'è un Dio che ci manda un'idea, ma siamo noi attraverso le nostre scelte che ci costruiamo un pensiero, cioè il nostro fa, il nostro lavoro che ci costruisce e costruisce il nostro pensiero. Dopodiché noi proiettiamo quel pensiero e con quel pensiero leggiamo il mondo. Però il pensiero non è mai, questo spavano dal punto di vista pagano, frutto di un ragionamento, ma è frutto delle scelte, cioè frutto della magia con la quale affrontiamo la vita. Per cui noi possiamo avere dei ragionamenti logici diversi, ma in fondo alla nostra anima, cioè in fondo alle nostre fibre, abbiamo un comportamento che è relativo a un altro pensiero, che magari noi mascheriamo perché la logica è forte, però davanti alle condizioni della vita, quelle condizioni che ci mettono con le spalle al muro, tiriamo fuori il nostro vero pensiero, cioè quello che ci ha costruito, quello che c'è, che è il prodotto della nostra costruzione. E questo è un, se volete poi lo riprendiamo questo discorso. Un'altra cosa ancora, ricollegandomi un attimino alla trasmissione precedente, io vorrei ricordare una cosetta che a me mi sta un po' sulle scatole, è un pero mio personale questo, è una cosa che riguarda me solo. Voglio ricordare questo, che nella Corea del Nord il fiore all'occhiello del regime cosiddetto comunista della Corea del Nord erano gli asili nido, cioè la rete di asili nido e di assistenza alle famiglie era il fiore all'occhiello della Corea del Nord. Vorrei ricordarvi questo, e se la Corea del Nord è riuscita in parte a parare le carestie anche dovute all'autarchia in cui si è chiusa, questo è stato possibile grazie alla rete di asili nido che avevano. Che poi ci siano altre cause è un altro discorso, però ricordatevi questo, io posso presentare al mondo tante cose, però da quello che presento al mondo è quello che io sono. Dopodiché fate tutte le critiche che volete, però non dimenticate mai che il crollo dell'Unione Sovietica ha significato 500.000 prostitute e decine, centinaia di migliaia di bambini ridotti alla fame. Il crollo dell'Albania ha significato la riduzione in miseria più un'intera nazione in mano alla criminalità. Quello che vorrebbe fare il Dalai Lama per il Tibet è smarciare 300.000 bambini sul mercato degli schiavi e alimentare la prostituzione. Quello che stanno facendo i Taliban è quello di smarciare oppio. Per cui quando voi date un giudizio su una cosa, pensate prima dentro di voi cosa è importante, cioè qual è la cosa che è importante. Non fatevi abbagliare da un ideale preconcetto, cioè da delle cose preconcette, anche se dopo la fin fine sono sempre delle cose preconcette, perché noi guardiamo il mondo dalla nostra ottica, guardiamo il mondo dalle cose cui diamo una predilezione. Però ricordatevi bene, quando il pazzo di Nazareth dice vi farò pescatori di anime, voi potete fare due cose, o identificarvi con colui che pesca, o identificarvi con chi viene pescato e messo in padella. Se vi identificate con colui che pesca, per voi va benissimo una situazione in cui c'è qualcuno che pesca e qualcuno che viene pescato. Ma se voi pensate che potreste essere il pescato che va a finire in padella, allora migliorare le condizioni affinché questo non avvenga diventa un imperativo, diventa importante. Per cui al di là dell'aspetto politico in sé, vorrei far riflettere sulle cose che sono importanti nella vita di tutti i giorni. Cioè quelle che in fondo ci consentono magari anche di essere un po' arroganti, magari consentono a parlare male degli immigranti. Io mi ricordo che si parlava molto male degli immigranti italiani, veneti compresi, per la schifezza dei loro comportamenti che avevano in Germania e che arrivavano in America. Ed è abbastanza normale che oggi i veneti, che hanno dimenticato quel tipo di comportamenti che hanno subito dagli altri e che loro stessi hanno provocato, siano sprezzanti nei confronti dell'immigrante che tenta di scalare la vita, per costruirsi una vita al di là di essere d'accordo o di non essere d'accordo. Però queste sono le condizioni. Io inviterei tutti sempre a riflettere sulle cose per sapere cosa per noi è importante e cosa ci conviene, su cosa ci conviene puntare l'attenzione. Questo è importantissimo. Detto questo, questa sera parlerò del sentiero d'oro, vi leggerò il principio provvidenza nella religione romana come io lo interpreto e dopodiché passerò a leggervi le congregazioni sacerdotali della religione romana. Una cosa è da precisare prima che vada a leggere le congregazioni sacerdotali. Sulle congregazioni sacerdotali della religione romana, di qualsiasi religione, si può dire tutto quello che si vuole. Però quando si dice tutto quello che si vuole, anche qua c'è una scelta di punti di vista. Qual è il mio punto di vista? Il mio punto di vista è quello di colui che sta costruendo il paganesimo politeista e i percorsi di stregoneria. E proprio perché io ho un potere di essere, ho una forza che mi permette di fare questo, infatti da due anni sono questi microfoni, io non ho nessuna paura di infilare le mani nelle tame e di raccogliere le perle, di pulirle e di lavarle. Cioè a me non me ne frega niente che i porci cristiani abbiano inzozzato, o l'imperatore prima di loro, l'imperatore romano, abbiano inzozzato le perle della conoscenza e della consapevolezza. Io non ho nessuna paura di infilare le mani nelle tame, di tirarle fuori e di ricostruire le collanne della vita. Per cui io prendo quello che mi serve per costruire il futuro. Chiaramente quel mattone lo devo ripulire. Cioè io non posso andare in una costruzione religiosa, in un paganesimo, in qualsiasi altro tipo di religione, prendere i mattoni per quello che sono e trasferirli nella mia costruzione. Io devo prendere quei mattoni, ripulirli, riportarli e dargli il significato che devono avere, dopodiché quei mattoni li posso usare. E io ritengo di avere il potere sufficiente per fare questo tipo di operazione. naturalmente io ho il potere per farlo insieme a tutti quei pagani, a tutti quei apprendissi stragoni che decidono di farlo insieme a me. Però io comunque mi assumo questo compito. Dopodiché da buon kishot salgo sul ronzinante e vado all'assalto del mulino a vento. Il mulino a vento mi spacca la testa ma io ci riprovo finché la mia testa potrà reggere. Quando la mia testa non regge più, vabbè, quella cavalcata cesserà di essere. E detto questo, l'ultima cosa che voglio ricordarvi è intanto ogni primo martedì del mese, le riunioni qui in Radiogamma con Franco e dopo in libreria Sottomondo a Treviso c'è una serie di conferenze in cui presento i miei libri, spiego quello che sono il senso e l'intento dei miei libri. E queste conferenze vengono fatte legate, in date, anche se non esatte, vicine a quelle che sono alcune feste pagane. E questo si tratta il 31 ottobre, in occasione di Halloween. Presenterò i fenomeni di premorte interpretati dalla stragoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Praticamente andrò a mescolare questi due libri e a dare una spiegazione del modo di vedere. Il 19 dicembre 1998, in occasione dei Saturnali, sempre alle ore 17, sempre in libreria Sottomondo, illustrerò il libro d'Anticristo e Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Il giorno 13 febbraio, alle ore 17, sempre di sabato del 1999, prossimo anno, sarà il 13 febbraio, per Cagliarone 15, ma non ha importanza, tratterò il sentiero d'oro e la teoria della filosofia aperta. La teoria della filosofia aperta non è un libro che viene venduto, perché devo ancora lavorare su alcune questioni che ritengo importanti, ha oltre un milione di caratteri ed è un lavoro sull'analisi di tutti i concetti filosofici visti dal mio punto di vista, chiaramente, sempre. Comunque in ogni caso verrà illustrato proprio per far comprendere cos'è la filosofia dal punto di vista della stragoneria. In data da destinarsi ci sono due libri, uno è illustrerò il crogiolo dello stragone, che è l'oggetto delle trasmissioni praticamente di tutto quest'anno, di parte dell'anno scorso, e l'altro libro che è Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stragone pagano. Cioè, il Vangelo di Tommaso non è un Vangelo cristiano, è un Vangelo che appartiene a una stragoneria ed appartiene, io sono convinto, ai riti di Adone, cioè alla filosofia misterica di Adone, che poi si è stato rivestito con elementi ebraici, si è stato rivestito con elementi cristianeggianti, c'è sempre questa citazione del Gesù continuo, però appartiene alla costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano. E questo è l'ultimo lavoro che sto facendo. In pratica sono otto libri in totale, che illustrerò a mano a mano, e sono sia il crogiolo stregone che il Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stragone pagano, sono in data da destinarsi. Allora, l'appuntamento è per il 31 ottobre 1998, a libreria Sottomondo, in Treviso, via Tolpada 11, dove illustrerò i fenomeni di premorte interpretati dalla stragoneria dal paganismo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Io penso di avervi detto tutto da questo punto di vista e incominciamo invece il concetto di provvidenza. Ricordatevi sempre, io sono il veggente che interpreta queste cose, che legge e interpreta queste cose. Questo nasce da me, nasce dai miei viaggi, nasce dalla mia alterazione della percezione. Io sono un costruttore del futuro, un costruttore di merda, se a qualcuno fa piacere, ma sono sempre un costruttore del futuro. E con me sono affiancati altri pagani, altri apprendisti stregoni, che stanno tentando con le loro specificità, con il loro modo di vedere le cose, di costruire il futuro. Per cui, quello che stiamo facendo noi come pagani, come apprendisti stregoni, è la costruzione del futuro. Non è il ripescare il paganesimo antico. Ciò che fu non potrà mai più essere, non avrà mai la stessa forma. Però noi possiamo abbeverarci a quella fonte, esattamente come possiamo prosciugare la fonte della miseria e dell'orrore cristiano, affinché non costruisca più miseria e non costruisca più orrore. Sempre riprendendo un altro discorso fatto oggi, c'è da dire questo. Se in questo momento i cristiani cessassero la costruzione della miseria, sto parlando come cristiani in senso lato, cioè tutti i monoteisti, musulmani, eccetera, e i buddhisti compresi, cessassero immediatamente la loro costruzione della miseria, bene, nel giro di 100-150 anni gli esseri umani potrebbero ricostruire la loro vita. Invece sono i cristiani che stanno coltivando la miseria, stanno costruendo continuamente la miseria. Per cui impedire la costruzione della miseria è effettivamente una delle più grandi cose che si può fare nei nostri sistemi sociali. Dunque, dal sentiero d'oro cominciamo il concetto di provvidenza. Uno dei concetti dai quali si vuole far permeare la storia di Roma dal punto di vista della religione è il concetto di provvidenza. Provvidenza significa provvedere a. Il concetto viene elaborato da individui la cui vita è caratterizzata dallo stupore per la propria stessa esistenza. Non capiscono come essi, così incapaci e impotenti nei confronti dell'oggettività, possano continuare a vivere ed esistere. Attraverso questa impotenza e questo stupore guardano la storia della loro città e si stupiscono come abbia potuto vivere, esistere, prosperare, espandersi. Da questa impotenza costoro elaborano un concetto, provvidenza. Certamente, e si affermano, gli dèi provvedono al benessere della città, così essi trasformano gli dèi in essere il cui scopo del loro esistere è provvedere all'esistenza degli abitanti di una città, al suo espandersi, al suo progredire. Questi individui non scorgono la fatica del servo, non scorgono l'impegno dell'uomo nel trasformare le merci in prodotti, non vedono la volontà, l'impegno costante, il valore degli esseri umani, non vedono la grande quantità di energia emanata dai singoli abitanti della città, non vedono le relazioni che costoro intrattengono col mondo circostante, non scorgono nelle loro azioni la presenza di Venere, Saturno, Marte, Giove, Tellus, Cerere, Liberpater, Quirino, Lara, Carna, Giano, non scorgono come questi esseri umani che vivono attorno a loro sono l'incarnazione della divinità di cui essi vanno blaterando decantandone le doti. Giano non avrebbe fatto sgorgare la fonte se gli esseri umani da proteggere non fossero stati a loro volta Giano, non stessero agendo per fondare il futuro. Gli esseri Oca del Campedoglio non avrebbero starnazzato se gli esseri umani della città non fossero stati Giunone. Nella loro impotenza Cicerone, Tito Livio, Ovidio, Virgilio non vedono gli esseri umani attorno a loro, vedono soltanto la loro impotenza che proiettano sugli altri esseri umani. Si dirà non era il loro intento, eppure lo scopo delle loro azioni, dei loro scritti era quello di strappare la sicurezza del cuore degli esseri umani per meglio rendere gli schiavi. Gli dei provvedono al benessere della città, andavano farneticando, finendo per dire tu, divino imperatore, provvedi al benessere della città, e l'imperatore finì per difendere il proprio interesse distruggendo l'anima stessa della città di Roma e di tutte le province che da essa dipendevano. Cosa significa strappare l'anima di una città o di una cultura? Ogni cultura è un divenuto. Si è costruita adattandosi e trasformandosi giorno dopo giorno, generazione dopo generazione. Spesso i figli compiono dei gesti tramandati dai loro antenati. Seguono un fare appreso gratuitamente, ma ignorano quanta fatica e quanto sacrificio è costato imparare e strutturare quel fare. Quanta disciplina è stata necessaria per costruirlo. Quella capacità di fare spesso è tutto quello che hanno, è quanto permette loro di vivere. Spesso gli esseri umani dimenticano come quel sapere debba essere rinnovato, come sia necessario aggiungere sapere a sapere, conoscenza a conoscenza, e come quanto ci è stato insegnato dobbiamo insegnarlo a nostra volta dopo averlo arricchito attraverso il nostro esistere. Così, anziché ricordare come quel sapere, quella conoscenza, sia frutto di duro lavoro e costante impegno di chi trasforma merci in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani, ci si illude che sia un regalo di un qualche Dio, di un qualche padrone, di un qualche essere superiore. Quando si contesta a loro come questo non sia possibile, fra lo stupore costora fermano. Come? I miei antenati non erano stupidi come me? Incapaci come me? Fanulloni come me? Cecchi come me? No. Hanno affrontato l'esistente. Lo hanno trasformato per poter risolvere i loro problemi e hanno posto le basi affinché nascessi tu. Tu devi partire da questo ed arricchirlo trasformandolo per consegnarlo a tua volta. Nell'incapacità di trasformare le merci in prodotti, l'essere umano non riesce più a trasformare se stesso in relazione all'esistente, a vivere l'esistente, ad essere parte integrante delle contraddizioni dell'esistente. Guarda la luna ma non sente la sua voce. L'essere umano maschile, su istigazione del comando sociale, non sente nella propria compagna Diana, Giunone, Bonadea, Mater Matuta, Anna Perenna. La considera un oggetto col quale soddisfare i propri bisogni, costringendola a far crescere i suoi figli, bastoni per la sua vecchiaia. Due mila anni di imperatori romani e cristiani testimoniano questo. L'essere umano femminile non riesce più a vedere nel proprio compagno Marte, Quirino, Pali, Volturno, Pistore, Vulcano, Cerere, Liber, Venere, ne vede Genio crescere dentro di lui. Entrambi si vedono spegnere dalla vecchiaia. Virbios li ha fatto propri, ora Mors li attende. Guardano la terra e non sentono né Tellus né Maia, non sentono le voci di Silvano fa uno Giove Nettuno. Guardano il cielo, lo scorre delle nubi, sono impressionati dal rombo del tuono che segue il fulmine, ma non sono in grado di essere cielo diventando uno con Giove. Quanto loro ignorano, fece grande Roma. Anche se Roma si appropriò delle immagini divine fu in grado di compenetrarle a tal punto che quelle immagini si possono considerare soltanto sue. Anche se altri popoli avevano alimentato i nodi di energia vitale e spesso dato il nome delle coscienze di sé e delle divinità romane, l'interrelazione fra queste il popolo romano e le popolazioni italiche in genere fu tale da essere considerate a buon diritto divinità romane. Ed ecco Cicerone affermare come la radice di Venere sia una derivazione del verbo venerare e come quella di Cerere sia quella del verbo crescere. Solo questo il dotto che non trasforma merci in prodotti sa vedere. Molto bello, dice, accattivante e dietro la forma non scorge il potere di Venere come non è in grado di scorgere la volontà di Cerere nel divenire di suo figlio. Come sono stato fortunato mentre ruba il pane dalle mani di chi non si può difendere. Ringraziamo la provvidenza divina mentre disciplina se stesso per garantirsi di poter continuare a rubare il lavoro di altre mani. Chiude se stesso alla relazione con l'esistente ringraziando la provvidenza per la riuscita del suo fare. Il contrario non lo sfiora. Così costoro spacciano per provvidenza il fare degli esseri umani al fine di bloccare lo sviluppo del fare stesso. L'imperatore può difendere quanto possiede ma non può aggiungere nulla a quanto possiede se non rubandolo ad altri. La provvidenza si riduce soltanto alla garanzia di poter continuare a rubare per aggiungere qualche cosa a quanto si possiede. Lo scopo di Cicerone e compagni è quello di rendere gli esseri umani di Roma uguali a loro. sanno raccontare storie fantastiche ma non sono in grado di cogliere una mela con cui sfamarsi solo quando sono riusciti ad acceccare gli esseri umani. Nei confronti del mondo circostante costoro si possono spacciare perdotti e sentirsi importanti. Così Seneca riceve i favori del palazzo. Cicerone può sparare stupidaggine nei confronti di Catilina macellandone i sostenitori affinché non smascherino il suo complotto. Ovidio scrive suppliche all'imperatore supplicandone il perdono. Virgilio viene comperato ripagandolo per gli espropri con generose donazioni da parte dell'imperatore. E Tito Livio, il Pompeiano, può continuare a curare la grandezza di Roma che tanto per lui un padrone vale l'altro. Costoro invocano la provvidenza e solo fine di disarmare gli esseri umani davanti al divenire. Le loro opere saranno ampiamente utilizzate dai cristiani, salvo depennare qualche passo qua e là negli scritti, i quali, oltre a dover costringere gli esseri umani a soggiacere alla divina provvidenza di cui loro si dicevano emissari, dovevano anche distruggere i simboli attraverso i quali gli esseri umani potevano essere indotti a relazionarsi con l'esistente. Vale per tutti l'esempio di San Vigilio. Uso il San solo per l'individuazione del personaggio, vescovo di Trento, la cui bassezza morale era tale da volere a tutti i costi distruggere la statua di Saturno in valle a Rendena e per questo messo a morte dagli abitanti della valle stessa. Fu preso a sassata, non fu bruciato. San Vigilio si considerava il padrone per volontà del suo dio di Trento e non sopportava che la gente umile si permettesse di sperare ancora nell'età dell'oro, col pericolo che qualcuno di loro potesse diventare Saturno trasformando la speranza in progetto. San Vigilio voleva distruggere quella statua allo scopo di sottomettere gli abitanti della valle alla provvidenza del suo inesistente Dio. San Vigilio voleva trasformare quegli abitanti in essere vuoti e disperati, come lo era lui. L'immensa ferocia di San Vigilio, con lui e dopo di lui tutti i missionari cristiani, si è scontrata con l'orgoglio e la speranza dei valligiani. I cristiani hanno dimostrato a Cicerone e compagni come non sia sufficiente propagandare la provvidenza come l'argetrice del fare umano per sottomettere gli esseri umani, ma come sia necessario strappare loro ogni legame con l'esistente, distruggere ogni simbolo e ogni libro, ma soprattutto è necessario distruggere il principio speranza attraverso il quale l'essere umano alimenta il Dio che cresce dentro di lui, portandolo a cogliere il frutto dall'albero della vita eterna. E questo è il concetto di provvidenza nella religione romana. Cos'è che si oppone? Il concetto speranza è un concetto pagano, è una divinità pagana. Cos'è l'opposto della speranza? È l'attendimento, è l'attesa. La speranza è ciò che io metto dentro il mio fare. Io facendo, lavorando, sto sperando di arrivare alla fine, ma metto la mia volontà nella costruzione. Per cui speranza non è altro che ciò che io metto nella costruzione, nel mio fare, perché spero di raggiungere l'obiettivo prefissato. I cristiani spacciano per speranza l'attendimento, l'attesa. Loro attendono il Dio che scende dalle nuvole. Loro attendono il giudizio universale. Loro attendono di andare in paradiso. Sono due cose assolutamente diverse, anche se l'obiettivo è uguale. Non rispondo ancora alle telefonate. Fatemi leggere ancora un altro pezzo. Parlato di questo, del sentiero d'oro, parliamo degli auguri. Non rispondo ancora alle telefonate. Portate pazienza se qualcuno sta telefonando. Gli auguri sono uno dei noccioli attorno ai quali viene formatasi la religione romana. Gli auguri sono veggenti. Sono coloro che, relazionandosi col mondo circostante e con le contraddizioni in esso espresse, costruiscono le relazioni fra esseri umani e coscienze di sé presenti nel mondo. Sicuramente non sono di origine romana, ma etrusca. Un gruppo particolare di auguri, gli aruspici, cioè coloro che leggono all'interiore degli animali, sono di origine certamente etrusca e latina più in generale. Probabilmente sono più antichi della stessa civiltà etrusca e fondatori di questa. Gli auguri erano esseri umani, capaci di alterare la percezione entrando in sintonia col mondo circostante, indicando quanto è possibile fare senza che le coscienze presenti nel circostante si ribellano opponendosi a quel fare. Si possono leggere i fenomeni provenienti del mondo circostante come conferma o come opposizione al nostro fare. La condizione perché questo sia possibile è la capacità dell'essere umano di soggettivare i bisogni, le tensioni, le necessità del mondo circostante. Diventare mondo circostante. Diventare silvano significa diventare uno col bosco, significa far proprio i desideri, i bisogni, le aspettative, le necessità del bosco, nella misura in cui queste hanno un referente nella specificità umana. Quando questo succede l'essere umano diventa bosco, quel bosco. Le sue mani sono quelle del bosco, la sua intelligenza è quella del bosco, i suoi bisogni sono i bisogni del bosco. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito. La sua intelligenza e i suoi bisogni, le sue necessità sono le necessità del bosco e viceversa. Quando questo succede il bosco diventa l'essere umano, quell'essere umano. Le sue fronde e le sue radici sono quelle dell'essere umano. La sua conoscenza è la conoscenza dell'essere umano. I suoi bisogni sono i bisogni dell'essere umano. Le sue necessità sono le necessità dell'essere umano. Fonda i crogioli. Ricordatevi il discorso che sto facendo nella prima parte della trasmissione. L'essere umano attraverso l'alterazione della percezione si fonde con la coscienza di sé del bosco e nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano della ragione, la coscienza di sé bosco risponde agli interrogativi, ai bisogni e alle aspettative dell'essere umano inviando segnali che lui e solo lui, a meno che altri non abbiano percorso il suo stesso sentiero e costruito la stessa interazione, è in grado di interpretare. I segnali non vengono invocati, arrivano immediati. Interrompo qui un attimo. A me succede abbastanza spesso questo tipo di segnali. Per esempio, vi faccio un esempio abbastanza stupido, però serve per riuscire a capire i messaggi che arrivano dal mondo. Io, quando vengo fuori da Radio Gamma, fa abbastanza scuro la sera. Bene, mi è capitato di essere in strada andando verso Castelfranco e di aver visto un piccolo lampo di luce, una sciocchezza che veniva fuori da un cespuglio. Chiaramente era una villa che probabilmente gli alberi avevano una luce e gli alberi davanti mi hanno dato questo lampo di luce. È una cazzata. Bene, io con il lampo di luce ho detto, accidenti, c'è la polizia. Invece non è assolutamente vero, però nel frattempo sono passato, ho rallentato la velocità e sono andato sotto ai 50 all'ora, cioè sono andato a una velocità, diciamo così, che era regolare per la strada. Bene, due chilometri e mezzo dopo c'era effettivamente la polizia che stava fotografando. O Vigi, adesso non mi ricordo esattamente cos'era. Cioè, io ho interpretato un segnale che mi è arrivato dal mondo attraverso la mia soggettività. In realtà io avevo già legato il mio sentire al mondo e ho letto quel flash, quella specie di flash, come se fosse una cosa che mi è venuta alla mente, cioè mi è venuta in mente. Bene, quella cosa l'ho trovata là davanti. Questo è un tipo di messaggi che ci arrivano dal mondo e che noi proiettiamo e leggiamo attraverso il mondo, che però non è il mondo che mi ha detto io ti mando il messaggio e ti avverto che là c'è la polizia inaguato. No, ero io che avevo esteso la percezione al punto tale da riuscire a leggere una condizione che mi stava circondando o che mi poteva succedere. Questo è il fatto di essere auguro. E questo, prendendo dei segnali che esistono attorno a noi, li interpretiamo in un certo modo per affrontare la vita, per affrontare tutti i giorni. Magari succederà un milione di volte che io vedrò lampeggi uguali e non ci saranno auto da polizia. succederà almeno un milione di volte, è sicuramente questo. Però in quel caso specifico, quella lettura specifica, mi ha evitato un guaio, mi ha evitato di avere un fastidio, insomma, di pagare una multa. Vado avanti con gli auguri e dopo finiamo il discorso. Dopo prendo le telefonate quando ho finito con gli auguri. L'essere umano, i segnali non vengono invocati, arrivano immediati. Afferrarli è un atto di magia eseguito dall'augure nel quotidiano della ragione. Un attimo, un gesto, un segno che l'essere umano deve afferrare velocemente. Quando l'essere umano chiede un segno, la sua ragione macina fiumi di parole attraverso le quali reciterà le proprie speranze, le proprie aspettative, ignorando i segnali che attorno a lui si manifestano. Questo è l'augure. Un essere divenuto uno col mondo circostante e da questo riceve indicazioni per procedere lungo i propri progetti. I propri progetti, i propri bisogni, le proprie necessità. I suoi bisogni, progetti e necessità non sono gli stessi delle persone che gli stanno attorno. Ecco l'augure, farsi carico dei problemi la cui soluzione o le indicazioni attraverso le quali procedere per la soluzione sono funzionali anche alle persone che gli stanno attorno. L'augure è l'essere umano che si fa oggettività e questa oggettività raccoglie quanto gli serve per esistere al meglio. Quando gli esseri umani vivono nei boschi o ai loro limiti, l'augure è l'essere umano che diventa silvano, fa uno opale e attraverso questa unità conduce gli esseri umani che lo attornano verso il benessere. Per un individuo che diventa, che si fonde con un silvano, fa uno opale, almeno 50 provano ad imitarlo. Se per l'essere umano è diventato silvano, un volo dell'essere corvo o qualunque altro uccello per lui era effettivamente la risposta ad un quesito, gli imitatori dovrebbero che dovevano codificare ogni espressione della natura, ogni gesto del singolo animale, ogni singolo tuono o fulmine del cielo per costruire un breviario all'interno del quale potersi muovere. Dal veggente che, diventato uno col mondo circostante, opera per risolvere i problemi propri e dei propri simili, si passa a degli individui che in possesso di alcune norme codificate, pretendono di leggere le manifestazioni del mondo circostante in funzione non solo dei propri bisogni, e questo rappresenterebbe un elemento a loro favore, ma di qualcosa di esterno di cui essi si ergerebbero a cani da guardia. A questo punto non è l'essere umano che diventando uno con l'oggettività diventa augure, ma diventa augure chi l'istituzione di cui gli auguri si sono trasformati guardiani, desidera che diventi augure. Il comando sociale garantisce se stesso. Augure non indica più il divenire dell'essere umano attraverso la sua fusione con l'oggettività, ma diventa una professione di cui il comando sociale si appropria al fine di salvaguardare se stesso cercando di impedire agli esseri umani di fondarsi con l'oggettività. Agli esseri umani è proibito diventare auguri senza il consenso del comando sociale, anche se in realtà molti esseri umani diventano auguri, senza per questo essere considerati auguri dal comando sociale. Spariti gli auguri reali, si forma il collegio degli auguri, formato da cinque cittadini patrizi. La prerogativa di essere patrizi per diventare augure era molto importante. Il comando sociale è controllato da questa classe sociale e da questa classe sociale che può venire la protezione di quel comando sociale. L'augure doveva essere una guida per gli esseri umani che vivono con lui o che comunque con lui dividevano o da lui dipendevano per la soddisfazione dei loro bisogni. Solo il padrone, secondo l'ottica del comando sociale, poteva assolvere questa funzione. Solo chi possedeva gli esseri umani il comando sociale per sua natura non avrebbe tollerato nessun'altra soluzione. Così l'augure, dall'indicare il potere di essere attraverso il quale diventa uno con l'oggettività in cui viveva, si trova a rappresentare il potere di avere, con cui radicalizzare la capacità di controllo e di possesso dei suoi schiavi. L'augure, da momento di liberazione dell'essere umano attraverso il suo divenire nell'oggettività, diventa uno strumento con il quale il comando sociale bloccava lo sviluppo degli esseri umani nel quotidiano come servi dei propri padroni. Poco importa se gli auguri furono più o meno saggi, il collegio degli auguri usurpò una funzione sociale che non gli spettava e la saggezza non era rivolta a sé come esseri umani, ma a sé come guardiani di un comando sociale di cui erano parte e dal quale beneficiavano. L'istituzione del collegio degli auguri viene fatta risalire a Romolo o a Numa. In realtà, anche se gli esseri umani, diventati uno con l'oggettività, si riunivano a quell'epoca, il potere di essere Guido Roma all'uscita dalla monarchia e almeno un augure, capace di essere uno con l'oggettività, fu presente nel collegio sino al periodo sillano. In caso contrario, il prestigio del collegio sarebbe sparito molto prima soffocato da altre istituzioni religiose. Con la legge Ogulnia, nel 300 a.C., i seggi del collegio furono aumentati a nove, con l'accesso anche ai plebei e alle cariche. Silla portò il numero dei seggi a 15 e Cesare a 16. Ormai nessun augure, diventato uno con l'oggettività, era più presente nel collegio. Nell'età imperiale il numero poteva essere aumentato in quanto gli imperatori si erogavano il diritto di eleggere membri in soprannumero, aggiungendo se stessi e i loro familiari. Oh, uffa, arriviamo tutti quanti, tutti auguri, che bello, siamo tutti fratelli. Il collegio degli auguri manteneva la relazione fra i membri attraverso vincoli di affetto e inizialmente si rinnovava per cooptazione. In pratica erano gli auguri a determinare chi poteva entrare a far parte del collegio. Con questo metodo il collegio garantiva la qualità dei suoi membri e probabilmente fu grazie a questo metodo se il potere di essere poteva guidare Roma fuori dalla monarchia e per tutto il periodo repubblicano. Con la legge Domizia nel 103 a.C., abrogata da Silla ma tornata in vigore nel 63 a.C., impose l'elezione dei membri del collegio degli auguri attraverso comizi ristretti formati da 17 tribù e strata a sorte, anche se il collegio conservava il diritto di indicare i candidati. I candidati dovevano essere indicati da non più di due membri del collegio e questi dovevano dichiarare pubblicamente che chi indicavano era da loro considerata la persona migliore. Gli auspici pronunciati dagli auguri, come già affermato, non erano tali da individuare l'avvenire, ma tendevano ad armonizzare il fare degli esseri umani con l'oggettività esistente. Questo era possibile soltanto se l'augure era allo stesso tempo essere umano e oggettività. Negli ultimi tempi della Repubblica, l'interrogazione degli auspici perde il suo carattere di relazione fra l'essere umano e coscienza di sé nell'oggettività per fornire risponsi e suggerimenti squisitamente politici. Da prima ci sono solo i patrizi che occupano il ruolo di auguri e questo tende a proteggere gli interessi di tale classe sociale contro tutte le altre. Però il collegio conserva la sua specificità allargandosi all'arrivo dei plebei e continuando a cooptare i propri membri. Poi negli ultimi tempi della Repubblica vengono definitivamente stromesse le relazioni fra gli esseri umani e le coscienze di sé nel circostante, finendo il collegio per occuparsi delle vicende politiche. Si ricorda a Fabio Massimo il temporeggiatore, egli stesso augure dichiarare che soltanto quanto era fatto in favore dello Stato godeva di buoni auspici, mentre proposte di legge dannose per lo Stato avevano gli auspici contrari. Fabio Massimo introduceva il concetto, fatto immediatamente proprio dal potere di avere, secondo cui era lo Stato che si serviva degli auguri e non erano gli auguri a guidare le azioni dello Stato. Quella di Fabio Massimo non è un'affermazione di ragionevolezza, è piuttosto la constatazione della propria sconfitta. Egli non è in grado di diventare uno con l'oggettività circostante, egli non è in grado di ottenere le risposte dell'oggettività e allora si ripara in quanto può proteggere la propria incapacità, l'istituzione Stato. Egli pensa di non essere lui l'incapace, pensa che quella capacità decantata dagli auguri non esista, pertanto deve piegare quella che per lui è una funzione a quanto gli può consentire di esistere, lo Stato. Eppure l'augure che lo cooptò all'interno del Consiglio sapeva perfettamente chi e perché lo stava cooptando. Ricordiamo che Fabio Massimo è detto il temporeggiatore, fu quello che ha consentito di respirare durante l'arrivo di Annibale finché Roma si costruiva un esercito per fargli fronte, in pratica dava l'assalto con scontri rapidi all'esercito di Annibale. Dalle affermazioni di Fabio Massimo è facile giungere al naturale sviluppo sull'osservazione dei fenomeni attorno a noi. L'osservazione dei fenomeni si ridusse a pura formalità. Infine si smise anche la finzione dell'osservazione. L'augure prendeva la decisione chiedendo al servo di indicargli la comparsa di un segno a conferma della sua decisione. Così nelle mani del Comando Sociale è finito un fare che per almeno 1500 anni ha condotto gli esseri umani a fondare il proprio divenire. In pratica cos'è che facevano? Vabbè, ho preso la decisione di mandare a morte Tizio, senti tu prova a andare a vedere le galline se si comportano confermando quello che dico io. Sì, le galline confermano la tua decisione. Vabbè, e questo era finito. Com'è che gli auguri aumentarono così tanto di prestigio a Roma? C'è un episodio di cui i nomi non me li ricordo più esattamente bene, però il senso dell'episodio è questo. C'era un re di Roma, non so se uno degli ultimi o uno dei primi, che voleva aumentare le forze di cavalleria. Per aumentare le forze di cavalleria chiese l'augure e l'augure si oppose a questo. diceva che non era bene aumentare la quantità dei gruppi di cavalleria. E allora il re si è arrabbiato perché lui la decisione l'aveva già presa praticamente. E gli ha detto, ma tu sei sicuro di sapere esattamente quello che dici? Non è che mi spari cazzate e io devo subirmi le cazzate perché tu dici di essere un auguro, di conoscere quello che si deve o non si deve fare. E vabbè, dice il re, se tu sei convinto di quello che è, devi dirmi se quello che penso io, se quello che penso io, succederà oppure non succederà. L'augure tira gli auspici e dice, sicuramente succederà. Vabbè, dice il re, visto che hai detto che succede, tu prendi il rasoio, io ho pensato, dice che tu con un colpo di rasoio spezzi e tagli una cute, una cote. La cote, non so se il termine è giusto, sarebbe la pietra con cui veniva affilato il rasoio. Tipo l'immagine che ho io, un po' la pietra per levigare, tipo la falce dei contadini, ecco, cioè quel tipo di pietra là. L'augure ha preso il rasoio e la pietra gli ha dato un colpo, o perché la pietra si è spezzata, o per l'arimmo ti so, è riuscito con il rasoio a tagliare la pietra. A quel punto il re ha dovuto mangiarsela e non ha più aumentato le forze di cavalleria. E in senato, o non so in che stanza del governo, c'era la statua di questo augure, mi ricordo come si chiamasse anche, con la cote tagliata e il rasoio, insomma, cioè proprio a simboleggiare proprio il potere degli auguri, cioè cos'erano effettivamente per Roma gli auguri. Ecco, io vi ho detto quello che è stato pescato, cioè quello che io ho pescato è quello che si può leggere nella vita, quello che si può partecipare nella vita. Noi possiamo integrarci col mondo che ci circonda, diventandone parte, possiamo estendere noi stessi, questa è la cosa più importante. E questo è che ci viene dall'insegnamento dell'augure. Però non possiamo dire io divento un augure, dobbiamo trasformarci noi stessi, cioè dobbiamo trasformarsi nel nostro modo di percepire il mondo, nel nostro modo di relazionarci col mondo. Adesso prendo le telefonate, se qualcuno vuole telefonare, vi ricordo il numero di telefono, 700-700-708-38, se invece nessuno ha telefono, vabbè non stesso, anzi. Per cui noi ci relazioniamo col mondo, noi dobbiamo costruire noi stessi, dobbiamo costruire ciò che noi abbiamo dentro. La vita è un processo di costruzione, questo è la magia, la stragoneria, è il paganesimo politeista. Cioè, noi dobbiamo costruire noi stessi, costruendo noi stessi, noi costruiamo il corpo luminoso dentro di noi. Questo ossium, questa cosa che sembra così facile da dire, bene, per riuscire a dire questa cosa, hanno dovuto passare un paio di migliaia di anni, hanno dovuto, milioni di persone sono finite sui rovi, sono state ammazzate, solo per dire questo, cioè per dire, guardate, che è possibile costruire noi stessi, è possibile giorno dopo giorno prenderci nelle nostre mani della responsabilità della nostra vita, è possibile costruire delle relazioni col mondo che ci circonda, è possibile costruire delle relazioni con le altre persone da pari, è possibile dire, io sono un Dio, io sono un Dio, cazzo, perché devo mettermi in ginocchio davanti a un Dio pazzo che dice di essere un costruttore dell'universo e che era un personale di palle. Cioè, io sono un Dio, è il mondo che mi circonda, è fatto da Dei, è fatto da coscienze che come me tentano di espandersi, tentano di costruirsi. Questo, tutto il paganesimo si può ridurre, tutto il paganesimo politeista si può ridurre in questo assioma. Dove sono le differenze, per esempio, fra quello che diciamo noi e i panteisti? I panteisti trovano Dio nelle cose, cioè la volontà originaria, la consapevolezza originaria, loro la trovano nelle cose, la trovano negli oggetti, la trovano negli esseri, la trovano nella natura. Però c'è sempre all'origine la volontà divina, cioè c'è sempre un altro a cui si chiede l'adesione. Alla fin fine ritorna sempre fuori il Dio padrone. Lo stesso vale anche per le persone che dicono no, in fondo Gesù non era esattamente come lo dici tu, era diverso, i preti sbagliano, cioè, alla fin fine non fanno altro che confermare la figura atroce di questo personaggio. Cioè, non esiste un trattare le cose con nomi diversi da quello che le cose hanno. Cioè, il fatto che nel deserto del Sahara, in Egitto, venga trovato fuori il Vangelo Gnostico di Tommaso di Idimos, non dice che il Gesù che è stato imposto agli esseri umani sia quello di Tommaso di Idimos. Quello di Tommaso di Idimos è finito sotto le sapie del deserto. Cioè, non esiste un Vangelo scritto da Tommaso di Idimos che abbia costruito la storia umana, che abbia costruito il cattolicesimo. So benissimo che Gesù descritto nel Vangelo di Tommaso di Idimos non è quel pazzo che viene sulle nuvole, che dice al processo tu fai quello che voglio io, se no mio padre mi vedrai venire dalle nuvole. Quello che dice la boccetta che scappa via con l'enzuolo addosso, quello che dice portate i miei nemici che io li sgozzo. Non è quello il Gesù di Tommaso di Idimos. Ma il Gesù di Tommaso di Idimos non ha stuprato gli esseri umani, non è servito alla Chiesa Cattolica come uno strumento, come un'arma per distruggere gli esseri umani. Questo vale anche come discorso, anche che mi stanno meno bene, che hanno altri aspetti, altre valenze, per quelli che sono il Vangelo del Filippo, per quelli che sono il Vangelo di Maria, per quelli che sono i cosiddetti Vangeli Gnostici. Il Vangelo di Tommaso di Idimos è un Vangelo pagano, è una via misterica, ha tutta una serie di cose da discutere, però è una via di uno stragone, uno stragone che viene sconfitto in sé stesso, per cui è una cosa che non potremmo mai più ripetere, però è una via alla stragoneria. Però, anche se Tommaso di Idimos parla di Gesù, quel Gesù è finito sotto le sabbie, cioè non esiste un uso di quel Tommaso di Idimos per mettere in ginocchio gli esseri umani. Ciò che mette in ginocchio gli esseri umani sono i quattro Vangeli ufficiali, è quella descrizione, quello è l'uomo Dio. Addirittura in Tommaso di Idimos non è neanche Gesù uomo Dio, perché a un certo punto dice a Tommaso, tu sei il mio gemello perché tu hai bevuto la mia stessa fonte, cioè tu stai percorrendo una via alla conoscenza e alla consapevolezza che è uguale alla mia, per cui io non ho niente da insegnarti a te, perché tu stai facendo le mie stesse cose. Per cui non esiste il figlio del Dio padrone in Tommaso di Idimo, esiste invece nei Vangeli ufficiali, esistono in questi quattro personaggi luridi che è Marco, Matteo, Luca e Giovanni che avevano un solo scopo, distruggere il divenire degli esseri umani, mettere in ginocchio gli esseri umani che non erano in grado di difendersi. Questo è appropriarsi degli esseri umani, costruire una setta separata dal contesto sociale e distruggere il contesto sociale. Questo è lo scopo, questo è il motivo per cui il Gesù dei Vangeli ufficiali è un Gesù padrone, il Dio padrone davanti al quale mettere in ginocchio gli esseri umani che non si possono difendere. Per questo i Vangeli ufficiali fanno schifo, letteralmente fanno schifo dal punto di vista della vita, fanno schifo dal punto di vista delle determinazioni dell'essere umano nel costruire la vita. Mentre invece quello che è l'infinito sotto sabbia so perfettamente che la Chiesa Cattolica sta già pensando a farci dei lavoretti, lo so perfettamente questo, però è finito sotto la sabbia, non ha messo a rogo le streghe, non ha fatto le guerre alle eresie, non ha distrutto le società indies, americolatine, eccetera. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera, su Luigi da Treviso. Ah, dimmi, veloce. Ecco, dunque, del riferimento che lei ha fatto quello che succede nei regimi comunisti o sedicenti o quelle in Corea, lei dice che si definiscono... Ho fatto solo una battuta e una precisazione, è chiusa là, iniziata e chiusa, basta. Chiusa solo quella precisazione. Ecco, ecco, io parto da questo. No, no, no. Ho finito, sì, sì. Per andare al Gesù dei Vangeli, no, che gli dice è responsabile, quel Gesù dei Vangeli lo dice all'inquisizione, gli scrivi tu in ginocchio davanti a Dio. Però vorrei finalmente un qualche esempio, a parte il fico, o prendere la lettera, la spada, chi gli spada ferisce la violenza, dove nel Vangelo, o nei Vangeli soprattutto, è un riferimento, perché la sua lettura mi pare sia singolare, dai, tagliamo. Ecco, dove il fondamento di quelle che sono le peghe della Chiesa dall'inquisizione, Tommaso Bruno e l'altro, sono state, come dire, un ordine, un derivato, un ordine, una derivazione logica, conseguenziale, da un comandamento e soprattutto da un comportamento di Gesù. Questo, sì, allora, mi scusi, ma sono l'unico a dove finire in un minuto io. Sì, dai. Sì, perché... È un singolare, lo spunto, lo spunto, mi veniva dei regimi comunisti, guarda, quelli sono sedicenti comunisti. Tagliamo un attimo. No, taglio, taglio. È capisco io, è capisco quando si è... Mi spiace, ma taglio la telefonata. Taglio la telefonata per che motivo? Prima di tutto, perché? Perché questo? Perché parlare di comunismo, di regimi comunisti in contrapposizione alla Chiesa Cattolica è un'operazione di merda, di merda, stupida, squallida, scorretta. Perché questo? Perché non esiste una contrapposizione fra comunismo e cattolicesimo in termini di sostanza e di costruzione dell'essere umano. Esiste una rappresentazione, non esiste una scena in cui la Chiesa Cattolica ha combattuto questa pseudo-idealità, diciamo così, dei regimi comunisti di uguaglianza delle persone, cioè le persone volevano essere uguali al di là della gerarchia, mentre invece la Chiesa Cattolica vuole persone uguali in ginocchio davanti al padrone. C'è stata questa lotta. Bene, a me non me ne frega niente che c'è stata questa lotta, perché tutte le persone che hanno praticato quel tipo di regime erano tutte le persone state educate da Chiesa Cattolica. Stalin stesso è stato a scuola gesuita, cioè quasi tutti quelli che hanno fatto la rivoluzione russa, altri non erano che educati dal cattolicesimo. Cosa è successo? Un conto è l'ideologia, un altro conto è come si affrontano i problemi. Alla fin fine hanno affrontato i problemi esattamente come i cattolici. Per quanto riguarda poi il discorso dei dimmi dove ti trovi a... Io mi rompo i coglioni queste robe qua. Perché mi rompo i coglioni? Perché l'ho già detto 50.000 volte e siccome le persone non vogliono intendere, vogliono solo provocare, vogliono insultare e sono disposte ad aiutare i gher a stuprare i bambini, sono disposti ad aiutare qualsiasi preto a stuprare i bambini. Perché lo ha detto Gesù? Perché c'è nei Vangeli questo? Ed è vergognoso questa cosa, è vergognosa la partecipazione delle persone in questo modo. Bene, allora ti guardi l'episodio delle mine in Luca ultime tre frasi ultime tre righe nell'episodio delle mine in Luca Gesù dice ecco portate i miei nemici quelli che hanno voluto che io dominassi sopra di loro e sgozzatevi davanti a me. Pronto? Questo è quello che dice è quello che dice Gesù in Luca per cui da ordine di sgozzare le persone e i missionari hanno sgozzato le persone che non si potevano difendere e ancora peggio la cosa peggiore di tutte la cosa che per me è peggiore di tutte è che l'urdo pazzo di Nazareth va a dire alle persone chiunque chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me chiunque scandalizza sia la macina quelli che credono in lui infatti i missionari hanno distrutto tutti tutte le situazioni sociali e culturali degli altri popoli per distruggere il loro divenire e stuprare i loro figli non solo questo non solo questo ma quando dice io dico a voi io dico a voi che siete in ginocchio davanti a me fra parentesi lo metto io che voi dovete amare i vostri nemici è un assoggettamento è il padrone che chiede agli schiavi di amarsi fra di loro per continuare a produrre meglio in quanto schiavi per cui Luigi prima ti sciacqui i panni sporchi in famiglia prima cessi di stuprare i bambini e questo vale come termine lato stuprare i bambini significa anche battezzarli significa portarli in chiesa significa costringerli a pregare costringerli a recitare i padri nostri prima fai questo e dopo ne parliamo pronto prima fai questo e dopo eventualmente parliamo perché venire a rivendicare davanti a me perché tu stai rivendicando davanti a me il diritto della chiesa cattolica di stuprare i bambini il diritto dei missionari di distruggere in Africa in Asia in America Latina tutte le civiltà tu mi stai rivendicando questo diritto questo diritto tu non lo hai chi costruisce campi di sterminio per me non ha nessun diritto hanno diritto gli altri a spezzare le catene magari saranno brutti cattivi feroci pezzi di merda eccetera non saranno culturati però hanno il diritto di spezzare le catene sempre e tu mi stai rivendicando il diritto dei nazisti di costruire campi di sterminio questo stai facendo quando tu andrai dei tuoi e direi queste cose non si fanno e io ho il rispetto di gente come Fradolcino ho il rispetto di gente come Jan As ho il rispetto di gente che sono andate dalla chiesa cattolica e dicono queste cose tu non le devi fare l'interpretazione del cattolicesimo non ti dà diritto di fare queste porcherie io ho rispetto per questi cristiani davano le loro interpretazioni e sono andati alla gerarchia cattolica a dire tu questo non lo fai gli austriaci quelli che fanno parte dell'organizzazione cattolica cristiana la chiesa siamo noi hanno detto a voi Tila tu bambini non li stupri e sono usciti dalla chiesa cattolica chiaro per cui tutto si può imputare a quei cristiani meno che il delitto di stuprare i bambini mentre invece lo si può imputare a voi Tila come partecipazione morale infatti voi Tila lo ha ribadito bene tu fai la stessa cosa che fa voi Tila cioè tu ribadisci il diritto di essere padrone degli esseri umani cioè tu non hai il diritto di discriminare magari se erano questi magari se erano i comunisti magari se erano gli anarchici ma il diritto alla libertà è un diritto sacrosanto il diritto a buttare giù gli schiavisti è un diritto sacrosanto sempre si può dire non lo stai facendo si può dire c'è il burocrate che sta fregando si può dire è un esperimento di merda che stai facendo tutto si può dire qualunque cosa si può dire però il diritto di tentare di spezzare le catene è un diritto sacrosanto perché Giordano Bruno la magia di Giordano Bruno è una magia elementare però la sua magia è sacra nel senso in che senso è sacra è sacra perché ha tentato di spezzare una catena per questo è stato messo a morte e questo vale per tutti quelli che sono stati messi a morte indipendentemente che sia stata la chiesa cattolica che sia stato l'imperatore cattolico che sia stato il vice capo cattolico il fatto stesso di obbedire a un precetto dottrinale a una dottrina di dominio il fatto solo di fare questo tutti i cattolici sono colpevoli di questo e sono colpevoli i cattolici al di là dello spazio e del tempo cosa significa questo significa che questi delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione cioè il delitto del macello di Sodoma e Gomorra non cade in prescrizione il diluvio universale è un delitto che non cade in prescrizione cazzo sto Dio deve pagare per queste robe e devono pagare per questi delitti contro l'umanità tutti quelli che aderiscono a questo questo è il concetto giuridico della nostra vita civile lo so benissimo che fino all'altro ieri il papa aveva la possibilità di fare qualunque cosa che voleva il padrone aveva la possibilità di fare qualunque cosa che voleva l'imperatore aveva la possibilità di fare qualunque cosa che voleva ma dopo sono subentrate le lotte sociali dopo hanno cominciato a limitare fare quello che vuoi si può fare meglio ancora di questo però si è cominciato a limitare si è cominciato a dire no cazzo tu non puoi fare quello che vuoi ma i delitti che hai fatto prima di questa limitazione questi li devi pagare li devi pagare giuridicamente deve essere processato per questi delitti ora io non vado dai magistrati di dire metteteli in galera perché fanno questi delitti però nei codici giuridici questo c'è nonostante questo lo Stato ha detto qualcun concordato voi potete comunque mettere in ginocchio i bambini davanti al macillare Sodoma e Gomorra io dico che è squalio dal punto di vista dottrinale purché non è stendato questo e ha interrotto il sudo sociale per cui c'è un diritto a praticare la propria religione in quanto lo Stato viene meno al diritto di punire al diritto di perseguitare ricordiamo che l'apologia di strage andrebbe perseguitata giuridicamente quel concordato lo Stato viene meno al diritto suo di perseguitare permette ai cattolici di continuare i loro riti per cui anche commettere il reato di apologia di strage perché lo Stato col concordato non li punisce però dal punto di vista filosofico dal punto di vista morale è aberrante è davigliacchi ora se uno accetta questo se uno accetta questa costruzione come l'unica costruzione della sua vita come una costruzione da difendere è chiaro non può discutere con me cioè non può assolutamente è come pretendere come pretendere che quello che accende i forni crematori si metta d'accordo con quello che viene cremato è come accettare che il torturatore si metta d'accordo con il torturato cioè sono due cose assolutamente incompatibili o cessa l'attività persecutoria o non esiste mediazione cioè non esiste quelle religioni siamo tutte religioni c'è la verità quel cazzo nelle religioni rivelate non c'è nessuna verità c'è solo la distruzione del divenire umano c'è solo l'orrore e la morte questa è la religione rivelata non ha altro deve solo distruggere il divenire umano la costruzione del paganesimo porta a questo porta alla rimozione di tutti quelli che sono gli intoppi di tutti quelli che sono le attività di costruzione della persona che li porta a costruire se stessa dopodiché io non so dove questa costruzione andrà io non so se un giorno ci sarà un paganesimo o ci saranno forme diverse di credenza o modi diversi di affrontare la vita però quello che a me interessa in questo momento è la rimozione di tutto ciò che tende a stuprare gli esseri umani a mettere in ginocchio gli esseri umani cominciando dalla prima azione che viene fatta ai bambini indifesi al primo stupro ai bambini indifesi che è quell'atto obbroprioso che è il battesimo cioè veramente è di una volgarità incredibile praticamente il battesimo sancisce sancisce il diritto dei genitori e del prete a possedere il bambino che è veramente vergognoso questo questo è vergognoso tutto questo questo è di una vergogna veramente aberrante cioè battezzare il bambino cioè stuprare il bambino non appena è nato ed è un'attività di stupro ed è un'attività di stupro pura sempre cioè il bambino è oggetto di possesso anziché diventare soggetto giuridico questo è importante cioè ricordiamocelo bene queste cose e quando abbiamo i cattolici accusano tizio non hanno nessun diritto di accusare loro devono solo accusare se stessi Fra Dolcino non è andato dagli altri a dire voi voi vi comportate male è andato dalla sua gerarchia lui era cristiano ma è andato dalla sua gerarchia a dire tu non devi comportare in quel modo Jan Haas è andato dalla sua gerarchia a dire tu non devi comportarti in quel modo le tesi di Cliff che lui ha difeso durante il processo di Costanza che lui ha difeso le tesi di Cliff beh ma le ha difese fino alla morte io adesso non pretendo che un cristiano difenda le cose contrari dei cattolici fino alla morte però un minimo di dignità lo pretendo cioè un minimo di dignità sociale lo pretendo il rispetto di quello che sono i termini delle leggi sociali quello lo pretendo il cristiano non può mica dire il padrone sono io tu fai quello che voglio io non può mica stravolgere quelli che sono gli effetti della storia siamo fuori test io capisco benissimo i cristiani che adesso vanno a esaltare vanno a esaltare l'imperatore lo zar di Russia lo so benissimo e so benissimo che la loro esaltazione dello zar di Russia era perché lo zar teneva in ginocchio le persone so benissimo che l'esperimento russo è andato come è andato perché partiva da uomini costruiti nel cattolicesimo so perfettamente tutto questo e so perfettamente che altri esperimenti ci saranno ci saranno i fallimenti ci saranno le cose brobriose ci saranno tantissime altre cose perché la storia della liberazione dell'umano dall'orrore dall'orrore cattolico è una storia durissima per uscire tutto questo per cui ricordatevi sempre questo l'importante è costruire gli individui bene io chiedo qui la trasmissione di magia stragonaria paganesimo ci vediamo ci vediamo il prossimo giovedì sì in ultima così è proprio di indottrinamento di stuprare i bambini dei preti ascoltami quando avevo 12 anni 13 anni andavo al patronato ti racconto un'esperienza mia personale e all'uscita della chiesa si piazzava il prete c'era un'uscita solo per i ragazzi dalla chiesa e con un timbro metteva sulle mani dei bambini che erano stati alla messa delle 9 alle 10 un timbro praticamente un visto tutti in fila tipo tipo macello tipo ebrei insomma tipo campo di colciamento perché questo? perché alle 10 e un quarto apriva il patronato se ti avevi il timbro sulla mano che avevi fatto la messa entravi in patronato se no non entravi questo era un metodo molto molto diffuso perché uno potrebbe dire sì però vabbè se tu vai a messa è giusto e ti meriti il patronato però attenzione il patronato c'è costruito con i schede dello Stato con stati su terreni comunque statali e quindi non so se sia una pratica giusta o no questo insomma nel loro diritto purtroppo anche se non avevano legalità certo eppure si facevano un piccolo mondo all'interno una piccola dittatura nello Stato insomma quella dei dei sacerdoti insomma ok ti saluto ciao grazie ciao in realtà in questo paese un secondo solo poi finisco la trasmissione in questo paese la Costituzione della Repubblica Italiana garantiva l'assistenza sociale alle persone bene per 50 anni di democrazia cristiana l'assistenza sociale è stata delegata alla Chiesa Cattolica cioè anziché gestirla allo Stato in prima persona lo ha praticamente delegato alla Chiesa Cattolica come sovvenzione alla Chiesa Cattolica io ho le mani nei capelli poi quello che succedeva negli orfanotrovi quello che succedeva nei collegi quello che succedeva nei posti di gestione cattolica il fatto di mettere in ginocchio le persone è di una berrazione in male e nessuno ha il diritto nessuno ha il diritto di questionare ciò che hanno fatto gli altri per uscire dall'orrore pur fra un miliardo di errori pur facendo tante cose belle o brute che siano che poi sono sempre da discutere perché va bene niente chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo gli altri sono già arrivati e vi do appuntamento per giovedì prossimo la trasmissione Magia Stragonaria alle ore 15 Paganesimo io mi riservo sempre di troncare Luigi da Treviso e di troncare tutte quelle persone che vogliono spiegarmi a me come si sta bene a morire nei forni crematori o come si sta bene a essere parte di un greggio che va al macello vi ringrazio ancora continueremo la lettura del Sentiero d'Oro e vi ricordo in libreria Sottomondo le nostre conferenze grazie e arrivederci e a risentirci da Radio Gamma 5 la più grande Radio del Veneto Grazie a tutti Grazie a tutti